benvenuti a tutti durante la job week avremmo dovuto partecipare a diverse iniziative in questo momento un po particolare abbiamo deciso di proporvi alcune informazioni sui tirocini europei e sui programmi europei che se ne occupano svolgere un tirocino all'estero è un'occasione per acquisire delle competenze e pratiche professionali e può darti un vantaggio nella futura ricerca di lavoro gli stati europei stanno cercando di regolamentare e definire alcuni aspetti legati ai tirocini i principali programmi europei che si occupano di stage sono erasmus plus your first eures job e corpo europeo di solidarietà chi vuole partecipare a un tirocino tramite erasmus plus deve rivolgersi gli allienti accreditati e finanziati dal programma your first eures job oltre a effettuare il reclutamento e la selezione si occupa anche di fornire un supporto informativo e finanziario ai giovani che aderiscono al progetto tra i quali le spese di viaggio per il colloquio e un indennità di trasferimento in un altro paese corpo europeo di solidarietà offre l'opportunità di effettuare il proprio tirocino nell'area della solidarietà il programma offre supporto assistenza e diversi benefit finanziari ai partecipanti per maggiori informazioni vai sul sito www.stage4u.it o scrivici a eurodesk.coopiris.it Grazie a tutti